Claudio Pazzaglia, 2021 sta terminando, ci sono tantissimi ancora capitoli aperti, per cui si fa fatica ancora a capire esattamente cosa succederà, però c'è questo 2021 che pian piano sta andando anche questo in archivio. Un 2021 molto delicato, ancora molto complicato? Sì, attualmente la situazione ha preso una svolta negli ultimi 15 giorni che quello che appariva lineare è di una ripresa lenta ma comunque sicura dei consumi, della normalità, delle commesse di lavoro, delle attività, della normalità. Di fatto in questi ultimi 15 giorni i dati sanitari ci dicono che effettivamente siamo tornati in una situazione almeno di confusione, anche perché i segnali delle vaccinazioni, di accelerare le vaccinazioni, parevano l'unico elemento che la nostra stella di orientamento, di fatto adesso si parla che forse non basta, che bisogna forse fare dei tamponi per fare alcune attività anche del tempo libero, cinema, teatri, assembramenti, feste di capodanno, però si sottende almeno dalle ultime dichiarazioni del Ministro che il prossimo giovedì arriveranno forse delle restrizioni, speriamo che non siano le ennesime restrizioni che chiappano dentro tutti, indipendentemente che ti sei vaccinato meno e lascierebbero a noi un messaggio e anche ai nostri imprenditori che anche adeguarsi alle normative sanitarie forse non è più sufficiente, quindi lo sgomento regna sovrano. Questa incertezza ovviamente fa malissimo al mondo dell'imprenditore e dell'artigiano chiaramente, anche chi sta in questo momento organizzando per questo momento di festività dopo periodi molto difficili è chiaro che è complicatissimo. Certo, è complicato perché i consumatori come gli imprenditori hanno detto bene ho fatto le due vaccinazioni, adesso faccio la terza, accelero perché dopo il quinto mese posso farla, esempio io l'11 gennaio anticipo di un mese la terza vaccinazione perché mi adeguo un po' ai consigli. Le nostre imprese hanno aperto, hanno preparato le loro offerte di Natale, hanno cercato di dare una possibilità ai consumatori di riprendersi un Natale normale, le festività normali e di fatto questi primi segnali potranno influenzare una parte dei consumatori che diranno beh allora aspetta un attimo rimango in casa, non acquisto, non viaggio, non giro, non prenoto e quindi avremo una nuova riconversione dei consumi verso il risparmiamo, aspettiamo, vediamo e quindi un nuovo messaggio di caduta della ricchezza, delle speranze per certi aspetti perché poi i consumi sono anche psicologici, cioè fare un regalo a un amico o un amico, un parente, a un collega è anche un momento di liberazione, cioè un messaggio di stiamo assieme, di fatto dover di nuovo monitorare, aspettano un consumo e così via influisce sia sulla psiche dei consumi dei prossimi sei mesi ma anche sui consumi a breve termine e vedremo nei prossimi giorni i segnali che si concretizzeranno, ma non siamo ottimisti. C'è un tema anche dell'edilizia, tra l'altro magari sentirete sottofondo un po' di lavori qui nel palazzo della CNA che continuano anche i lavori, c'è il mondo dell'edilizia, c'è questa tragedia purtroppo di questi giorni, di questa gru, quello che è successo a Torino, c'è un tema della sicurezza dei cantieri, ora siamo pieni di cantieri per il superbonus e quant'altro, però insomma sì, la sicurezza è fondamentale, però non è che soprattutto è insicuro o abusivo? No, assolutamente, il mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese artigiane dell'edilizia sono cantieri, sono attività che noi monitoriamo tutti i giorni e anche bisogna guardare i dati degli effettivi incidenti infortunistici e mortali anche nella città di Bologna e noi crediamo che questa sia una città dove la vigilanza e la prevenzione sia al massimo dei livelli. Poi può capitare sempre la disattenzione, sappiamo che la prevenzione è anche fatta di formazione, non smetteremo mai di dire che i lavoratori devono essere formati, informati, i nostri datori di lavoro lo sanno. I cantieri, non è che l'escalation del boom del 110 o delle altre bonus edilizi abbiano creato la corsa alla insicurezza dei cantieri. Il tema è che i cantieri sono una moltitudine, le normative del governo tendono a restringere in poco tempo tutta una serie di attività e quindi non c'è neanche la possibilità di programmare, di vedere come esercitare questo efficientemente energetico nei prossimi mesi. Quindi le misure che stanno prendendo il governo è di una proroga, che sarà una proroga che è un po' un compromesso, che non ci soddisfa, che non permette di fare quello che è l'obiettivo poi delle misure europee, della green economy, dei minori consumi. Non dimentichiamo che il 40% dei consumi energetici provengono dagli immobili, sia energia e gas, il 40% provengono dagli immobili. Quindi se facciamo efficientamento, diamo più tempo alle imprese e ai cittadini per fare gli investimenti, ripensiamo per il 2022-23 a rivedere la durata di questi bonus, facendoli durare per caso con un recupero di 15 anni piuttosto che in 10 per poter fare in modo che le finanze pubbliche siano sostenibili. Quindi diamo una prospettiva, perché se parliamo di 2035-2050, che dobbiamo produrre meno CO2, bisogna fare le cose per bene, sono investimenti per le famiglie, per una vita, perché l'immobile è anche la ricchezza principale che essi possiedono. Quindi fare dei lavori così, in fretta e furia, perché entro il 30 giugno dobbiamo finire il 30% dei lavori per le villette, i mini condomini. Se i condomini hanno solo fino al 31 dicembre 2022, credo che sia un'ansia che i cittadini non si meritano nemmeno le imprese. Quindi un consiglio al governo, programmiamo meglio il nostro futuro. Pazzaglia, in chiusura, un pensiero a questo 2022? 2022 è l'anno che noi speriamo sia della stabilizzazione di affrontare il Covid e la pandemia, nel senso che dobbiamo imparare a conviverci, probabilmente dovremo conviverci per più anni, quindi un po' di sangue freddo, sapere che bisogna continuare a usare le mascherine, non fare assembramenti, la prevenzione, la sanità è importante, dobbiamo aiutare il sistema pubblico sanitario a non intasare le corsie degli ospedali e i pronti soccorsi. Bisogna cominciare ad andare verso l'obbligo vaccinale, lo dico perché ormai non è una cabala, ma bisogna cominciare a distinguere la prevenzione di chi si vuole adeguare rispetto alla minoranza che non si vuole adeguare, prendere una linea certa, sapendo che nei prossimi cinque anni ne usciremo, diventerà probabilmente una cosa endemica come il vaccino anti-influenzale, però due pensieri, uno ai giovani che hanno subito e subiranno in questi anni e nei prossimi anni una limitazione della loro attività normale, l'attività scolastica, l'attività di avere il tempo libero e così via, quindi un pensiero di una generazione che non è la guerra, però comunque qualche restrizione l'ha subita. E agli anziani che hanno dimostrato grande saggezza, siamo un paese di vecchi e purtroppo dovremo demograficamente migliorare, però gli anziani ci hanno aiutato a capire che comunque bisogna essere coesi e loro sono i primi che si sono sacrificati, i primi che hanno subito gravissime perdite, non dimentichiamo che abbiamo superato i 135.000 morti, viaggiamo a 6-700 morti alla settimana e non è normale e non bisogna accettare questa normalità. Dobbiamo convivere accettando che bisogna avere delle restrizioni, bisogna fare prevenzione e non è accettabile che le morti di centinaia di persone siano una cosa normale. Grazie, buon Natale e buon anno. Auguri a tutti voi, grazie a voi.